Era stata definita la pozzanghera più lunga d'Italia, quasi da primato, quella che ad ogni pioggia si creava in via Frusaglia a ridosso del circuito Marconi in zona trave a Fano. Una situazione, quella di via Frusaglia, molto discussa negli ultimi tempi, tanto da finire anche in consiglio comunale come interrogazione dovuta alle numerose lamentele dei residenti che durante i forti temporali risultava quasi impossibile riuscire a tornare alle proprie abitazioni dall'acqua presente su tutto il manto stradale. Buone notizie arrivano per chi risiede in zona, da questa settimana sono partiti i lavori per la risoluzione di questo annoso problema. Siamo arrivati alla conclusione, venerdì termineranno i lavori, come dicevo un intervento importante molto atteso, perché questa è una zona non solo frequentata dai residenti, ma anche da tutti coloro che utilizzano gli impianti sportivi, anche un bel biglietto da visita. Qui c'era un problema annoso che si portava dietro da tanti anni, c'è un impegno che ci siamo assunti e ancora una volta dimostriamo che quando diciamo le cose le facciamo. Poi può capitare che ci si impiega qualche mese in più, ma le complessità ci sono nella pubblica amministrazione, le difficoltà diverse, ma quando diciamo una cosa la facciamo. Il lavoro è stato creare una nuova rete fognaria che raccogliesse le acque piovane collegandosi con il collettore della rotatoria. Come dicevo venerdì i lavori termineranno, poi faremo anche ai lati della strada una depolverizzazione per risistemare anche tutta l'area dove si sono fatti i lavori. Quindi ecco, non nascondo la soddisfazione per questo ulteriore intervento che significa qualità della vita, significa anche rendere più accoglienti i nostri spazi. È una città che cresce, che si migliora giorno dopo giorno, settimana dopo settimana.